Musica Benvenuti su TR24 Sport Sarà una salernitana all'insegna della spregiudicatezza quella che domani attenderà al barco il Cesena nella sfida della Reiki il tecnico Granata Bollini potrà schierare il tridente d'attacco Rosina, Coda e Donnarumma per puntare a fare bottino pieno Vediamo Ai tre tenori la salernitana di Bollini non ci ha affatto abituata vero è che l'allenatore Mantovano sulla panchina Granata si è seduto soltanto dalla partita di Bari ma nelle nove gare della sua gestione quella dei 13 punti conquistati grazie a quattro vittorie ad un pari Rosina, Coda e Donnarumma hanno giocato insieme soltanto due volte entrambi alla Reiki andò male con il Carpi K-O per 2-1 decisamente meglio con il Perugia bella prestazione vittoria meritata e gol di Donnarumma e Coda meglio non poteva essere chiesto poi però Bollini ha cambiato qualcosa dato equilibri diversi alla sua squadra e così seppur a malincuore in questo giurone di ritorno mai i tre attaccanti hanno giocato insieme in due circostanze scelte obbligate anche per gli infortuni di Rosina e Donnarumma questa volta la tentazione è forte, fortissima perché Bollini sta pensando che dopo i sette punti conquistati in quattro partite del giurone di ritorno vincere ancora e farlo contro il Cesena dopo il blitz di Vicenza potrebbe garantire alla Salernitana quello auspicato salto di qualità da tempo invocato L'Otito ha sempre spinto per il contemporaneo utilizzo dei tre giocatori e Sannino accontentava spesso il Copatron nelle prime quattro partite del torneo ad esempio la Salernitana conquistò soltanto due punti nonostante i tre titolari tanto da costringere l'allenatore a mandare poi in panchina inizialmente Coda e Donnarumma a Cesena in totale il bilancio della Salernitana con i tre in campo dal primo minuto a volte insieme nel tridente altre con Rosina da fantasisto a centrocampo è di sole tre vittorie in 12 partite e poi altre tante sconfitte ma anche molti pareggi sei in totale Per il basket è incominciata all'insegna del thriller la rassegna riminese delle Final Eight di Coppa Italia con Reggio Emilia che rischia grosso contro Capo d'Orlando ma se la cava in volata e con Milano che deve addirittura affidarsi all'instant replay per avere ragione di brindisi Nel match pomeridiano è l'eterno Kaukenas che vediamo immortalato su TR24.it a rubare la scena trascinando la Grissinbon alla rimonta da almeno 6 prima dei liberi della sicurezza firmati da Amedeo della Valle In serata è poi una tapina a fil di sirena di McVen a lanciare l'Emporio Armani in semifinale dove incrocerà la vincente della spida tra Venezia e Brescia in campo alle 20.45 alle 18 invece saranno Avellino e Sassari a contendersi il posto tra le magnifiche 4 Ma ancora di basket ci occupiamo la missione salvezza si è fatta molto complicata per l'Unieuro Forlì dopo che nelle ultime due giornate Recanati ha messo il turbo volando sul più 4 una disavanzo che però non sembra spaventare Ryan Amoroso ancora speranzoso di poter operare una rimonta ai danni dei marchigiani vediamo il servizio si torna al al Palagalassi per giocare una partita questa è la situazione allora Ryan 4 punti sono tanti da recuperare però le 10 partite non sono poche guardando il calendario guardando dentro lo spogliatoio che convinzione c'è ancora dentro di voi di poter rimontare questo terreno? sì ma secondo me non mi piace guardare i punti perché se guardiamo i punti sempre siamo giù con con la testa poi per noi è importante stare insieme dentro il spogliatoio per continuare a credere che possiamo fare questo è solo 4 punti anche siamo meno partiti in giù sì poi sì no continua Ryan scusa no 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 problema è importante per noi stare con la testa con con insieme per quanto riguarda il motociclismo Andrea Dovizioso ha terminato la terza ed ultima gara di test ufficiali la terza chiedo scusa e ultima giornata di test ufficiali della MotoGP a Phillip Island dopo 73 giri nella notte italiana in Australia il romagnolo ha portato la sua Desmo 16 al settimo posto col tempo di 1.29 248 il più veloce di giornata si è confermato da ieri Maverick Vinales in sella alla Yamaha seguito dalle onda di Marquez e Pedrosa gli ultimi test ufficiali si svolgeranno dal 10 al 12 marzo in Qatar sul circuito di Losail parliamo anche di calcio a 5 vigilia di gara per il Favenzia impegnato domani in casa del Carrè Chiuppano capolista del Girone B di Serie B il punto allora della portiere Michele Conti nel servizio sarà un big match incandescente quello tra Favenzia e Carrè Chiuppano getta benzina sul fuoco Matteo Conti estremo difensore dei Manfredi che affrontano la trasferta durissima in casa della capolista ad Alto Vicentino la partita di sabato tra Favenzia e Chiuppano io penso che se siamo arrivati a giocarcela con così pochi punti di distacco sia un demerito di entrambe le formazioni detto questo io continuo a pensare che loro siano superiori a noi e tutte le pressioni saranno dalla loro parte noi ci proviamo come ci abbiamo sempre provato e sì penso che sarà una partita molto fisica oltre che da livello tecnico elevato ma penso che la differenza la farà la fisicità perché loro sono aggressivi sanno anche portarsi l'arbitraggio dalla loro sanno perché lo dimostra come la partita dell'andata nonostante sia finita 10 a 8 a poco dalla fine c'era un tiro libero sacrosanto per noi non fischiato e questa è la differenza tra una squadra giovane ma più che giovane inesperta è una squadra navigata di giocatori pronti e che sanno fatto loro diamo adesso un'occhiata anche alle notizie che troviamo sui giornali già in edicola da questa mattina cominciando con il Corriere di Romagna si parla proprio dell'Unieuro Forlì che non vuole mollare l'Unieuro si aggiudica il test di Imola con l'Andrea Costa niente derby al Palagalassi per i tifosi della Fortitudo per quanto riguarda Forlì si parla anche di calcio Ponsat è quell'assist al buio che Succi gli aveva anticipato e poi l'Atletica Leggera la Nicoletti e Conti punte Romagnole agli assoluti spostandoci sulla voce di Romagna continuiamo a parlare anche di Volley con la Bunghe Ravenna che abbraccia il Sitting Volley sabato 25 alle 15 durante il preriscaldamento dell'ultima gara di campionato il Palo de André ospiterà una dimostrazione di alcuni atleti paralimpici in chiusura stiamo sul QS Sport il resto del Carlino che dedica un approfondimento a Roberto Baggio 50 sfumature di Roby Baggio domani compie infatti 50 anni trionfi e aneddoti di uno dei più grandi campioni del nostro calcio dagli anni 80 agli anni 2000 ma si è concluso intanto la tre giorni di calcio europeo per le squadre italiane sentiamo allora a tal proposito quella che è l'opinione di Luciano Poggi e certo dopo i capricci di De Laurentiis nessuno può permettersi di fare capricci perché l'Italia questa volta è stata ben rappresentata o almeno al primo turno degli ottavi di finale è stata ben rappresentata la Roma che va a vincere 4 a 0 la Fiorentina 1 a 0 contro il Borussia beh insomma non si può certamente dire assolutamente nulla in attesa ovviamente del match della Juventus per ora bisogna apprezzare che comunque l'Italia si sta pian piano adeguando nelle coppe ai ritmi delle altre la Roma in questo caso e la Fiorentina il Napoli ci ha provato ma aveva di fronte i migliori del mondo e questo nessuno mi può dire che non è vero visti i risultati ottenuti in Champions e non solo dal Real Madrid e allora non ci resta altro che applaudire questo momento dell'Italia e il fatto che comunque finalmente siamo tornati a fare la nostra bella figura nelle due coppe europee è chiaro la Champions vale molto di più ma arrivare in finale di Europa League poi paga e come perché quest'anno chi vince va in Champions ed è tutto per quanto riguarda anche questa edizione di TR24 Sport vi ringrazio allora per averci seguito arrivederci a tutti superi per averci seguito